L'approvazione del pubblico austriaco è la sottolineatura di professionalità e capacità espressiva successo per la pianista cosentina Ingrid Carbone, impegnata nei giorni scorsi in una tournée in Austria, all'Università di Vienna e al Mozarteum di Salisburgo. Il repertorio romantico eseguito dalla musicista calabrese è entusiasmato. Il mondo accademico viennese, così come era venuto recentemente in Slovenia, in Spagna e a Udine, dove Ingrid Carbone è stata chiamata per l'inaugurazione dell'anno accademico. Formata al Conservatorio Giacomo Antonio di Cosenza, la pianista Carbone ha perfezionato gli studi con master e concorsi pianistici in Italia e in Europa. È stata la vincitrice assoluta del concorso internazionale di Lecce ed è stata premiata dalla Fondazione IBLA di New York. Dopo l'Austria, Ingrid Carbone si recherà in Germania, Israele e Spagna, mentre ha in programma l'esecuzione di due concerti di Bach con un'orchestra d'archi, oltre ai consueti impegni artistici in Italia, in duo con il violinista Eugenio Prete.